Per la notte, per le labbra, uso questo della Regenerist che praticamente va sia sulle labbra che intorno alle labbra per le rughette che si creano molte le chiamano le rughette dei fumatori quindi questo è un prodotto che mi piace Allora, poi, una volta alla settimana io non vado dall'estetista per ciò che riguarda il viso e pulizia del viso non perché io sia contro l'estetista, assolutamente faccio tante altre cose dall'estetista ma non la pulizia del viso perché ho notato che il mio viso si stressa troppo quindi cerco di controllare, ad esempio, punti neri con dei prodotti che so che funzionano per la mia pelle tipo le striscette per il naso queste sono quelle in assoluto che funzionano per me sono le ultra della Biore funzionano in una maniera incredibile veramente tolgono i miei punti neri e le ho provate di tutti i tipi, le ho provate tutte ma queste assolutamente le ho trovate, per me sono le migliori quindi una volta alla settimana faccio queste poi, una volta alla settimana uso anche questo Turnaround sempre della Clinique che è una maschera che funziona come una leggera microdermabrasione ovviamente vuol dire che rimuove gli strati superfici della pelle ma anche questa è molto delicata un prodotto che sto usando ho dimenticato di dirlo la notte in questo periodo è questo della Estée Lauder l'Advanced Nile Repair Serum questo è il concentrato che viene usato per 21 giorni allora, non è un prodotto che costa poco assolutamente io questo, questo me lo hanno regalato però, se conoscete qualcuno che ha usato questo prodotto io sono convinta che vi dirà che gli è piaciuto perché io, innanzitutto, è di una consistenza leggera veramente poi, questo è molto concentrato e veramente ne basta pochissimo e ha funzionato sicuramente con la mia pelle in assoluto, comunque, il prodotto dell'Estée Lauder che io amo di più è il Perfectionist perché, se lo metti sulla pelle ti dà veramente una pelle di una morbidezza incredibile parlando di Perfectionist questo è della Perfectionist che è una linea della Estée Lauder questo è il peeling ovviamente potete andare dall'estetista e fare un peeling all'acido glicolico questo è all'acido glicolico però è, come ho detto prima la percentuale è veramente bassa e praticamente lo sto aprendo adesso questo è il secondo che io uso consiglio tutti i trattamenti che voi volete fare dall'estetista soprattutto per ciò che riguarda dermabrasione e peeling fateli nel periodo invernale possibilmente dopo l'estate questo sarebbe il periodo migliore perché questi trattamenti rendono la pelle fotosensibile quindi dovete veramente stare attenti perché potete causare dei danni alla pelle soprattutto a causa del sole perché la rende veramente molto sensibile ai raggi del sole questo prodotto funziona in questo modo questa è la crema che viene messa e credo che si debba tenere per un 15 minuti e poi ci sono i dischetti che sono al tè verde mi sembra di ricordare al tè verde che si passano sopra per togliere questo prodotto praticamente questo è il peeling e questo è il prodotto che neutralizza il peeling gli ingredienti del peeling e credo che sia tutto ah volevo farvi vedere vi volevo farvi vedere questi sono dell'almei li metto sempre nella mia nella mia valigia da trucco perché sono convenientissimi sono dei dischetti imbevuti di prodotto struccante in questo ce ne sono 80 ed è veramente ottimo come prodotto è sempre anche questo senza oli e residui credo che sia tutto sto guardando in giro per assicurarmi che ci sono due cose che volevo dire anche questo è un prodotto della Evian e si spruzza sul viso e mi piace moltissimo d'estate per rinfrescare il viso per rinfrescare il viso è veramente ottimo e si può mettere anche sopra il trucco questo e poi questo invece è della MAC è un tra il burro di cacao e il lucidalabbra questo è molto carino come colore questo si chiama Hush Hush è la linea e la tender tone con la protezione 12 quindi questo è da ricordare credo che sia tutto nel mio tutorial uno dei miei tutorial precedenti avevo parlato di un autoabbronzante di un autoabbronzante dell'Oreal che vendono in Italia deve essere io l'ho provato è stato considerato uno dei migliori perché non rende arancioni e bla 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 tutte le cose che ho detto ed è questo dell'Oreal è il Sublime Bronze quindi se avete la possibilità provatelo adesso credo che sia tutto un bacio a tutte ciao alla prossima